Tra aumento del food e soprattutto le utenze ci stanno veramente stringendo il capio. Inflazione in lieve calo ma resta la stangata per le famiglie e per le attività commerciali e se le prime cercano come possono di risparmiare, i titolari di bar e ristoranti si trovano a ritoccare il listino prezzi. L'Istat ha diffuso nelle scorse ore i dati territoriali dell'inflazione di maggio in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. A Como ha pesare e non poco i generi alimentari e le bevande analcoliche, settori per cui si registra ancora una volta una crescita a doppia cifra, più 11,3% in un anno. Al netto della quantificazione puntuale, chiunque semplicemente riempiendo il carrello della spesa se ne è accorto e come può tenta di far quadrare i conti. Chi lavora nel comparto ammette le difficoltà, ma anche gli aumenti sui prezzi non possono essere eccessivi altrimenti i clienti poi rischiano di calare. È aumentato tutto, dalla luce al gas alle materie prime. Noi ci siamo adeguando, non facendo delle pazzie, però comunque qualcosina abbiamo aumentato anche noi, direi un 10% non oltre. Rispetto all'anno scorso circa un 8% sul food e qualcosa abbiamo ribaltato sul rilistino. Sarei bugiardo a dire il contrario. Si cerca ovviamente di restare nel mercato perché esagerare non va mai bene. Per i servizi di ristorazione il Comasco fa registrare in un anno un aumento del 5,3%, sempre secondo i dati dell'Unione Nazionale Consumatori, ben lontano dal più 15,3% di Viterbo e dal fanalino di coda della classifica Trapani, dove si parla di un aumento del 3%. Ma dalla pizzeria alla pasticceria, dal bar alla gelateria, è evidente il ritocco dei prezzi. Ogni famiglia fa i conti e diventa sempre più costoso mangiare fuori. Il rischio è che per contrastare i rincari si riducano i consumi, innescando però un'ulteriore crisi a cui alcune attività potrebbero non riuscire a far fronte.